Buonasera, eccoci qui, in questo giorno 8 marzo, è ancora più significativo che si parli di Manon Lescaux, nel senso che Manon Lescaux di Puccini, opera che è stata creata qui al Teatro Reggio, è l'altro grande titolo, insieme a Bohème, che ci appartiene nella storia del teatro musicale, ha le sue origini in un testo, sai, curioso, del settecentesco, del 1731, che sicuramente è stato foriero di molte declinazioni nella storia dell'arte e della musica, anche, rispetto alla figura femminile. Per cui prosegue la galleria di personaggi femminili che abbiamo incontrato in questa stagione, con questo che ha questo primato. Il Teatro Reggio ripropone l'allestimento olimpico, fatto nel 2006 in occasione delle Olimpiadi Invernali, con bellissime scene di Thierry Flamand e i costumi di Christian Gask, con una nuova regia firmata da Vittorio Borrelli. Sul podio è il direttore musicale Gianandrian Loseda, che ha inaugurato la stagione con la Bohème del 120esimo anniversario e che torna ora per questo altro titolo pucciniano. Figure femminili, ne abbiamo un'altra molto importante qui oggi. Carla Moreni, che come sapete è il critico musicale del Sole 24 Ore, è tornata ai nostri microfoni. Beneficiamo della sua competenza e anche del fatto che sia una donna a parlarci di quest'opera. La ringrazio e buona conferenza a tutti. Grazie a voi. A me fa molto piacere essere qui, ma mi è molto piacere che sia l'8 marzo, mi fa molto piacere parlare di Manon e come omaggio alle signore in sala ho pensato di proporre in questo bel giovanotto che si chiama Jonas Kausman, no, è meglio di una limosa. Bene, vedo che ha apprezzato. Quindi anziché parlarvi di Manon, vi parlerò di Jonas Kapp, non è una scherza. Parliamo di Manon Lescaux, ovvero assolutamente torinese, perché cedicemente ha debuttato qui al Teatro Regio il primo febbraio del 1893. Pensate che anni meravigliosi erano? Il primo febbraio debuttava a Regio Manon Lescaux e il 9 febbraio debuttava alla scala il Falstaff di Verdi. Che anni, che anni che abbiamo vissuto. Però per fortuna questi grandi compositori ci sono. Uno dice, ma perché parlare di Manon Lescaux proprio l'8 marzo? Perché non credo che questa data sia stata messa a caso. Forse perché Puccini era femminista, forse perché Puccini nelle sue opere ha raccontato la donna come nessun altro, ma io non so, io perché parlare di Puccini femminista non mi sentirei di dirlo, mi sento anche fuori luogo, la mia preparazione non è adeguata, però credo che sicuramente Puccini sia sempre stato dalla parte delle donne e che anche in qualche modo si sia mascherato dietro le sue grandi eroine Puccini per parlarci di sé. Cioè abbiamo usato la donna un po' come schermo per proiettare attraverso la voce femminile delle sue personali inquietudini. Quindi in qualche modo sì, ma Manon Lescaux potrebbe essere anche Puccini. Anche se naturalmente De Grieux canta tanto con le sofferenze del giovane uomo di fronte al grande enigma della donna. Fu quel primo febbraio del 1893, fu qui a Torino un successo incondizionato. Infatti anche di questo Puccini era molto felice perché come voi sapete tutte le altre sue opere gli diedero dei problemi, gli diedero così delle amarezze. Il pubblico non sempre alla prima esecuzione capì le opere di Puccini mentre invece la prima a Torino di Manon Lescaux fu un successo incondizionato di pubblico, di critica. Un grande trionfo per il giovane compositore. Dirigeva, come giustamente diceva un signore, non dirigeva Toscanini che invece avrebbe diretto di lì a poco la Boheme sempre qui a Torino, ma dirigeva Alessandro Pomè che è un musicista diciamo di famiglia milanese. Il padre era pure un musicista, organista, direttore d'orchestra. Si era trasferito a Sassari, scusate, per cui Pomè nasce a Sassari per via del lavoro del padre e poi sarebbe morto a Torino. Era del 1851, quindi relativamente giovane in quel 1893. Nel ruolo di Manon Lescaux c'era la mitica Cesira Ferrani. Ferrani era un cognome d'arte, è una bella cantante. Di lei si diceva che avesse più personalità che voce e in realtà cantò oltre 300 volte il ruolo di Manon e sempre con grande successo. Quindi evidentemente aveva sì personalità, però probabilmente aveva anche quel carattere vocale che esige la scrittura musicale di Puccini. E l'opera Manon Lescaux è sostanzialmente una grande storia a due, è una grande storia tra un soprano e un tenore. Tutta l'opera si gioca tra loro due, le altre figure fanno dei numeri di contorno, diciamo. Però la grande storia di Manon è la storia della relazione tra una giovane donna e un giovane uomo. Nel testo di Prevost la storia addirittura morbosa, potremmo dire, insomma un po' inquietante, perché lui dovrebbe avere 17 anni e lei 16, quindi sono veramente poco più che adolescenti. Puccini si sposta un pochino in avanti e ci fa sapere che lei ha 18 anni. Certo, sono età veramente ancora in fiore, sono ancora proprio personalità decisamente che devono sbocciare. Questa questione dell'anagrafe non è tanto una questione capziosa, quanto io credo che proprio il tema centrale di Manon Lescaux, che sarà poi anche il tema centrale di Bohème, è la giovinezza. Puccini c'è appena uscito dalla giovinezza, però in qualche modo evidentemente si sente ancora profondamente legato, si sente ancora radicalmente figlio di questa età, che ha tanti aggettivi per essere definita. E ce la racconta, la fa cantare come nessun altro aveva osato prima di lui. Il grande problema di Puccini, come era stato a suo tempo il grande problema di Verdi, è differenziarsi da chi lo aveva preceduto. Chi aveva preceduto Verdi? Rossini. Chi aveva preceduto Puccini? Verdi. È proprio sempre una questione, come dire, generazionale. Il compositore giovane si trova a fare i conti con il grande mito che ha le sue spalle si deve, per emergere, si deve staccare, si deve differenziare, deve dimostrare la propria autonoma personalità. Per cui se per Verdi, per il giovane Verdi, il problema del successo era inventare qualcosa che non assomigliasse a quanto aveva fatto Rossini, il problema per Puccini è fare qualcosa che decisamente si staccasse rispetto a quello che aveva scritto Verdi. Però noi ci mettiamo a confronto con la trama di Manon Lescaux e ci viene spontaneo dire ma questa, quest'opera è scritta almeno drammaturgicamente sulla carta, sul retro del foglio della carta di Traviata. Assomiglia troppo la storia di Manon Lescaux alla storia di Traviata. C'è una giovane, c'è una giovane che probabilmente così per necessità si prostituisce, c'è un giovane innamorato di lei, ingenuo, crede di poterla redimere, c'è un vecchio che approfitta invece biecamente. Là era il padre, qui è Geronte. In realtà le storie non si assomigliano per nulla, cioè hanno una specie di filiazione reciproca e hanno poi, pensate, esattamente 40 anni di distanza perché nel 1853 Verdi scriveva per la Fenice la sua Traviata e nel 1893 Puccini scrive Manon. Quindi un lasso di tempo davvero breve, 40 anni cosa sono per due grandi capolavori. Però Puccini riesce ad essere nuovo proprio scrivendo un'opera che apparentemente è figlia di un grande capolavoro verdiano. In questo sta la sua genialità. Di solito quando si parla di Manon si racconta il famoso episodio citato dappertutto e dal quale io ho preso anche un po' spunto per dare il titolo a questa mia chiacchierata con voi dove appunto Puccini dice in quest'opera non ci saranno Cipria e Minuetti perché il grande contraltare ai tempi di Puccini era la Manonna che aveva scritto il grande compositore francese Masné e che era diventata una Manon di grandissimo successo conosciutissima anche in Italia. Per cui quando Puccini va in maniera ingenua e con grande slancio come era nel suo carattere a chiedere a Marco Praga giovane letterato, figlio del più famoso scapigliato Emilio Praga di scrivergli un libretto sul testo della Manon subito Praga gli dice ma è presente c'è già la Manon di Masné e lui dice non dobbiamo assolutamente preoccuparcene perché la Manon di Masné è piena di Cipria e Minuetti mentre la mia sarà piena di passione disperata. E quindi quando si parla della Manon Lescaux di Puccini si fa sempre riferimento a quanto sia diversa dalla Manon Lescaux di Masné e su questo non ci piove. Ma io credo che in realtà il vero discorso di fondo sia per la Manon di Puccini quanto sia profondamente diversa dalla Traviata perché in fondo Puccini non aveva bisogno di misurarsi con i suoi contemporanei francesi. Non era lì il vero contraltare di un giovane compositore il vero contraltare di Puccini è Verdi per cui Puccini riesce pur scrivendo un'opera dalla drammaturgia, dalla tensione teatrale assolutamente simile al grande capolavoro di Verdi a Traviata riesce a scrivere un'opera che non ci assomiglia per nulla che è assolutamente nuova pur se le diverse situazioni drammaturgiche che in qualche modo assomigliano, richiamano evocano alla memoria dello spettatore in sala quelle già perfettamente conosciute di Traviata. Questa è la grande vittoria di Puccini esattamente come aveva fatto Verdi quando scrive le opere che assomigliano in qualche modo a quelle di Rossini. Ci sono alcune opere di Verdi che sembrano scritte sulla stessa carta rossiniana però sono svolte secondo una musicalità una tensione musicale completamente diversa. E quindi si dice ma allora se non ci sono ciprie e minuetti e ci sarà disperata passione se non ci sono le situazioni verdiane ma che cos'è quest'opera? È un'opera nuova è un'opera antica avendo preso Puccini questo soggetto questo testo che era del Settecento quindi un testo proprio muffoso e quasi d'antiquariato rispetto alle abitudini librettistiche dei suoi anni. In quest'opera Puccini vuole essere moderno o vuole essere antico. Io credo che essenzialmente lui voglia essere nuovo e ce lo dimostra in ogni momento. è nuovo anche nella fatica della scrittura Puccini in un tempo in cui i compositori scrivevano ancora molto velocemente lui è un compositore moderno è un compositore del nostro recente novecento nella fatica di scrivere nei tempi lunghi che si prende. I librettisti non gli andavano mai bene appunto la prima commissione è a Marco Praga il quale dice benissimo non ti preoccupare io mi occupo del testo però i versi non li so fare pur essendo figlio di poeta però ho un amico che ti può aiutare entra in scena Domenico Oliva dopo Oliva si va a interpellare Leoncavallo perché il testo sembra traballante quindi l'esperienza di Leoncavallo sembra possa aiutare ma anche Leoncavallo viene deposto si va a bussare alla porta di Illica ma con Illica ci sono dei carteggi feroci che testimoniano quanto Puccini non fosse mai contento di quanto scriveva il povero Illica Illica c'è una lettera bellissima a ricordi in cui dice io lavoro, lavoro poi porto il testo a Puccini e lui mi risponde un mi piace e butta via un mi piace e poi dice poi io sono abituato a scrivere dei versi secondo una metrica importante una tradizione Illica era un grande verseggiatore un grande dominatore proprio del verso italiano e dice questo Puccini mi fa dei versi maccheronici sulle parole più strane su frasi senza senso era così Puccini era assolutamente così però insomma si arriva alla fine che i librettisti di Manolo Esco sono otto Puccini compreso alcuni versi sono proprio scritti con il suo sangue noi li sentiamo che lui li ha scritti da solo e quindi finisce che il libretto esce anonimo perché poi dopo ovviamente essendo troppe le mani in pasta nessuno vuole più firmare in prima persona perché chiaramente non è di Praga non è di Oliva non è di Illica non è di Leoncavallo non è di Ricordi non è di Adami che all'ultimo momento interviene e forse è solo di Puccini ecco possiamo dire quindi tormentato il libretto tormentata la scrittura dell'opera perché l'opera si va in scena qui da voi a Torino al Teatro Reggio in una bellissima stagione che tra l'altro si era aperta con i maestri cantori seguiva Ida poi appunto in prima esecuzione Manon ma dopo il debutto pure un debutto di successo Puccini continuerà a rifare quest'opera continuerà a riscriverla toglierà parti essenzialmente taglierà ridurrà vorrà sempre un'opera che è breve e pur tuttavia Puccini lo vuole evidentemente ancora più breve ancora più asciugata pensate nel catalogo di Ricordi si registrano ben otto edizioni diverse a stampa otto edizioni diverse una pura follia proprio perché Ricordi credeva in lui e investiva aveva deciso di investire molto in questo giovane compositore che tra l'altro è assolutamente pagato quasi strapagato per la sua Manon c'è una lettera in cui ha un amico in cui Puccini dice ho preso ben 40.000 da Franchi per Manon la scuola cifra allora impressionante con questi va a riscattare la casa dove era nato la casa dei suoi genitori che i fratelli volevano mettere in vendita quindi con un'opera riesce a ricomprare la casa natale è l'opera della sua vita in queste otto edizioni diverse noi vediamo passare gli anni della breve vita di Puccini e l'ultima edizione fa molto effetto perché è datata 1924 cioè l'anno della morte quindi in qualche modo noi pensiamo sempre a Puccini la sua ultima opera è Turandot lasciata in compiuta benissimo è vero però in qualche modo la sua ultima opera è anche Manon Lescaux e quel finale dopo ci arriveremo il finale lo dice chiaramente il finale di Manon è proprio il finale di Puccini è lui che si racconta certo c'era anche nella prima edizione però tanti piccoli ritocchi e tanto desiderio di continuare a portare con sé questa partitura vanno a testimoniare il grande affetto la grande dedizione la profonda identificazione che Puccini aveva con questo soggetto con questa opera e in qualche modo l'affezione anche alla scrittura perché in fondo un compositore cioè Verdi non avrebbe più riscritto Nabucco uno scrive Nabucco è l'opera del successo anche lui guarda a caso la terza opera del catalogo come terza opera del catalogo era Manon per Puccini però poi non ci ritorna più il compositore va avanti non torna indietro invece per Puccini vedete proprio la diversità di carattere l'essenza di due grandi figure Verdi e Puccini che non hanno assolutamente nulla in comune Puccini ci ritorna in continuazione ritorna in continuazione su questo che era stato il suo primo grande successo per cui è proprio l'opera degli affetti l'opera da cui lui non riesce in qualche modo a staccarsi e ci sono ci sono dei motivi per cui non riesce a staccarsi è un'opera evidentemente dove gli ingredienti nuovi sono tali che possono continuare ad affiancare la vita del compositore Puccini è nuovissima la scrittura vocale in particolare la scrittura per il soprano e per il tenore il soprano la scrittura di Manon è quanto di più nuovo si potesse ascoltare perché è un soprano che canta con voce continuamente sfaccettata è un soprano la cui dove il canto deve continuamente adeguarsi a un personaggio che cambia per cui ragazzina ingenua nel primo atto cocotte frivola e furba nel secondo nel terzo atto donna smarrita donna di colpo smarrita e di fronte al dramma e nell'ultimo atto quasi figura angelicata proiettata in una dimensione metafisica quindi non canta mai uguale si era parlato in continuazione dei famosi tre soprani che ci vogliono per cantare la traviata ma qui probabilmente ci vorrebbero quattro soprani per cantare Manon perché gli stili vocali sono sempre differenti e poi è un canto molto seduttivo molto molto appassionato molto già da femme fatale ma nel contempo è un canto rigorosissimo è un canto di minute sfumature e poi c'è il canto del tenore qui vi ho portato poi vi spiego un po' l'edizione che vi ho portato per così farvi un po' assaggiare qualche parte importante dell'opera ma il canto del tenore il tenore è assolutamente nuovo il tenore pucciniano è un tenore sempre con la lacrima in tasca però è un tenore eroico è un tenore che in maniera virile appassionata si confronta con quanto lo circonda un tenore che deve avere un grande registro espressivo una grande estensione un grande senso della parola e un grande senso degli affetti poi nuovissima è l'orchestra negli anni in cui doveva stava formandosi aveva appena licenziato l'Edgar e stava appunto progettando la Manon Puccini va a Bayreuth viene mandato a Bayreuth da ricordi spesato da ricordi perché doveva poi trarre delle edizioni degli spartiti da delle opere wagneriane per cui Puccini va a Bayreuth e si immerge in questo straordinario teatro wagneriano ne esce sicuramente è cambiato noi sentiamo un'orchestra che è profondamente wagneriana non è più un'orchestra italiana l'orchestra che suona in manolesco anche se in realtà italianissimo il canto quindi questi due questo gioco di bilanciamento a Puccini riesce perfettamente far cantare in maniera radicalmente italiana sempre con questo senso della parola messa in evidenza con la parola che plasma il tutto e nel contempo far suonare l'orchestra come le orchestre italiane non avevano mai suonato per cui con una tessitura sinfonica costante con una distensione densa proprio nell'orchestra che arriva dalla pienezza totale poi ad assottigliarsi addirittura uno o due strumenti che accompagnano il canto come nel finale nell'accompagnamento finale della melodia di Manon quindi nuova la vocalità di soprano e tenore nuova l'orchestra nuovissimo il libretto io sono andata un po' a rivedermi quello che hanno scritto nel passato su Manon e dato che l'opera numero tre del catalogo di Puccini spesso i musicologi l'hanno diciamo non dico criticata però non ritenuta la il grande capolavoro anche perché di lì a poco sarebbe arrivata Bohème per cui Bohème nel confronto tra Manon e Bohème Bohème abitualmente è considerata più importante Bohème più importante e Manon è l'esperimento per arrivare a Bohème io personalmente non sono assolutamente d'accordo secondo me Manon e Bohème sono due aspetti diversi di una ricerca che Puccini stava portando avanti sul tema in teatro della giovinezza della giovinezza che ha un solo tempo e che una volta che è finita non torna più e questa ricerca con Bohème si chiude nelle opere successive questo tema non tornerà più quindi Manon e Bohème sono in sé un dittico sono due facce attraverso le quali Puccini esprime lo stesso tema però sono assolutamente paritetiche Manon non ha nulla da invidiare a Bohème né sotto il profilo musicale né sotto il profilo librettistico il libretto di Manon è bellissimo io anzi mi sento di invitarvi proprio anche in preparazione all'ascolto dell'opera di invitarvi a rileggerlo perché davvero è un libretto meraviglioso dettagliato pieno di spunti preziosi drammatico naturalmente ma anche pieno di umorismo perché come si fa a raccontare la giovinezza l'unico modo per raccontare la giovinezza è far sorridere perché l'età in cui si ride di più è la giovinezza per cui se voglio fare un'opera che racconti la giovinezza devo avere un libretto che faccia ridere per cui in Bohem noi lo sappiamo ci sono molti momenti in cui si ride si ride quando i quattro ragazzi riescono a gabbare il povero affittuario che va lì per chiedere le mensilità arretrate si ride quando i ragazzi riescono a far pagare il conto al protettore di Musetta si ride appunto in questo contrasto tra vecchi e giovani in Manon si ride in maniera molto diversa ma ci sono davvero nel libretto tanti e tanti momenti in cui i giovani ridono tra di loro ridono del mondo degli adulti ma ridono anche proprio delle situazioni in sé e poi si ride in un momento che io trovo assolutamente speciale e irresistibile si ride della musica e dei musicisti quando nel secondo atto c'è questa famosa lunghissima e noiosa mattinata della povera Manon che si sveglia a casa nell'alcova di Geronte e deve passare la mattina prima truccandosi e imbellettandosi poi ascoltando il madrigale che ha scritto per lei il vecchio Geronte e poi deve anche esibirsi in un minuetto di fronte ad abati e ad anziani che la guardano un po' vogliosi prima di tutta questa lunghissima scena c'è l'ingresso in scena appunto dei musicisti che si devono anche accordare nella partitura è molto evidente la cosa e quando entrano i musicisti che sono tutti con le loro parrucche e ben incipriati il fratello di Manon che è sempre un po' l'alternativo diciamo diremmo un ragazzo un po' borderline diciamo il fratello che poi la porta al disastro totale il fratello vede entrare tutti questi imparrucati e dice ma chi sono questi ci sono dei ciarlatani o sono degli speziali chi sono e lei candida dice ma no sono musicisti e io trovo meravigliosa questa definizione dei musicisti da parte di Puccini musicisti che in qualche modo irride il mondo vecchio dei musicisti che erano intorno a lui imparruccati e incipriati la sua musica non vuole né parrucche né cipria il suo teatro vuole essere un teatro assolutamente diretto assolutamente vero non verista però perché pieno di grande poesia e immaginazione e non fatto di mera imitazione quindi teatro non verista quello di Puccini però non teatro imparruccato sempre un teatro che ci vuole portare a indagare il cuore di noi umani e in particolare il cuore delle donne quindi opera nuova opera nuova declinata su questo tema della giovinezza la parola giovinezza esce tante volte e uscirà in un verso fatale proprio alla fine dell'opera la giovinezza ride abbiamo detto e la giovinezza fugge i due innamorati non fanno altro ma non è De Grieux non fanno altro in tutta l'opera che fuggire non hanno mai il tempo per stare insieme in questa versione adesso cominciamo a guardare qualcosa dell'opera in questa versione che viene da Londra ed è firmata dal regista Jonathan Kent con la direzione di Antonio Pappano e appunto con protagonista Jonas Kaufman che adesso è stanco di guardarmi qui e vuole partire avanti e con la bellissima devo dire oltre che molto brana soprano Letton e Christine Oppolais in questa versione inglese appunto di Londra i due innamorati continuano a baciarsi abbracciarsi insomma è piena di grande effusività di grande carnalità in realtà nell'opera tutto questo c'è pochissimo perché soprano e tenore Manon e De Grieux non hanno mai il tempo di stare insieme ogni volta che si incontrano si incontrano per decidere che devono scappare che devono andare da qualche altra parte è veramente un incontro amoroso molto particolare molto giovane non hanno il tempo di stare perché stare vorrebbe dire che sono diventati adulti hanno trovato una stabilità invece in questo continuare a procrastinare una stabilità in questo continuare a fuggire ci testimoniano continuamente di essere giovani tra l'altro voi saprete che in anni precedenti alla prima esecuzione torinese della Manon intorno al 1853 57 sono ricordi esattamente però qui a Torino a Regio si era dato un balletto o anzi un'azione mimica come si chiamava allora sulla Manon e il coreografo di allora aveva pensato per alietare il pubblico e non farlo uscire con le lacrime di trovare un finale positivo per cui nel finale di questa azione mimica Manon si redimeva quindi in qualche modo era redenta e i due potevano sposarsi quindi il tutto finiva felicemente nella storia naturalmente non è così ed è giusto assolutamente che sia così ed è giusto che il tenore resti solo primo ascolto dunque vi ho detto ho scelto questa edizione di Manon Lescaut perché è forse l'unica edizione perlomeno a mia conoscenza dove il regista abbia osato trasportare il tempo della storia il tempo dell'opera in un vago presente vedete che l'abito di Kaufman non è propriamente un abito né del settecento né del tempo di Puccini sono in abiti moderni anche diciamo tutto l'impianto scenico riporta a un presente un po' stilizzato mentre invece tutte le edizioni che di solito si danno di Manon sono o rigorosamente settecentesche quindi rigorosamente allineate alla abate prevosto oppure vagamente aggiornate però con Manon Lescaut non si è mai osato non si è mai troppo osato uno spostamento alla contemporaneità io invece credo ma non per così non per giocare alle trovate registiche ma proprio perché l'opera parla di giovinezza e parla di giovinezza al presente io credo che una lettura anche un po' sfrondata di tutte queste trine di tutti questi merletti tendaggi sedi antiche credo che starebbe molto bene ci farebbe in qualche modo ripensare anche in maniera diversa al libretto per cui ho osato proporvi questa lettura naturalmente ho espunto perché non voglio troppo turbarvi poi oggi è il giorno della festa della donna qui ci sono delle scene dove le donne non fanno proprio una bella figura quindi ho espunto quelle parti mentre invece ho privilegiato quelle che in qualche modo ci raccontano ci possono servire per raccontare bene l'opera il primo ascolto sul quale voglio portare la vostra attenzione è il primo grande duetto che poi in realtà non è un grande duetto l'opera fatta anche di tanti piccoli duettini però scritti davvero con grande perfezione è il primo incontro tra De Grieux e Manon De Grieux è lo studente che fino ad allora si è solo occupato di libri e sagge letture ben contento di non essersi mai innamorato appena i suoi occhi cadono sulla bella Manon è proprio il classico colpo di fulmine siamo ad Amiens siamo diciamo alle porte di Parigi in è sera gli studenti sono felici di poter godere di queste ore piacevoli della sera le ragazze cantano una sera diciamo una sera un po' poesana una di quelle che probabilmente Puccini aveva vissuto tante volte nella sua lucca quando il sole declina ed è piacevole tra giovani uscire di casa è una sera gentile sera gentile cantano proprio in apertura i ragazzi attenzione a questo aggettivo gentile perché perché l'ultima sera invece dell'opera non sarà affatto gentile c'è questo proprio contrasto tra un inizio dell'opera così gentile così morbido così pieno di primaverile intreccio e invece il deserto la grande solitudine il vuoto e l'abbandono della sera finale ascoltiamolo poi lo commentiamo grazie possiamo sfumare naturalmente essendo un'opera di tessuto sinfonico non abbiamo i tradizionali numeri chiusi per cui è sempre molto difficile tagliare e passare da un episodio all'altro ma non è proprio tutta questa grande campata sulla quale è costruito ogni atto e dove Puccini è estremamente sensibile a farci percepire dove sono i punti di tensione i punti invece dove ci possiamo un poco riposare però il tutto avete sentito un grande un tessuto sinfonico molto denso molto dinamico molto wagneriano possiamo dire seppure con una leggerezza di strumentazione tipicamente italiana il tema di fondo da cui parte l'opera è il famoso tema della monacazione le donne le giovani ragazze un po' irrequiete oppure che non manifestavano particolare attitudine ad essere inquadrate negli standard sociali di allora avevano come approdo come rifugio il convento come luogo dove in qualche modo venivano punite o inquadrate e quindi anche la nostra povera manonna qui l'avete vista la giovane Cristino Polais è costretta con la sua valigia di cuoio a partire lui la guarda e lui è disperato è molto interessante che i due quando si incontrano la prima cosa che fanno si chiedono il nome si chiedono reciprocamente il nome questo è un aspetto se volete molto nuovo perché in qualche modo nelle opere non succedeva i personaggi non si chiedevano così direttamente davanti al pubblico di presentarsi e la frase di presentazione di lei costituisce uno dei nuclei tematici fondamentali dell'opera il tema ma non le scomichiamo sarà proprio questa frase delicata di sole e tre battute una frase molto breve che però costituirà una sorta di tema conduttore possiamo dire comunque tema ricorrente all'interno dell'opera è una frase delicata molto gentile scritta su sette note all'interno nell'arco di un'ottava quindi copre in maniera molto delicata un'ottava ed è scritta in punta di penna perché lei da subito con questo tema ci fa capire tutto il suo senso di grande leggerezza di grande levità ma non è proprio una fanciulla gentile come lui la vede non è quello che poi vedremo che lei diventerà lei parte come una ragazza ingenua fresca e il suo ritratto sta tutto in quella frase sta tutto in quel suo ma non le scomichiamo tre battute semplicissime un intervallo di ottava discendente che Puccini scolpisce con una delicatezza da orafo alternando proprio con grande sapienza ritmo binario e terzina tempo binario e terzina che si intrecciano creando questa frase che è immediatamente sospesa quasi non tocca terra e ci dice meglio di tante altre parole tante altre note ci dice chi sia ma non chi sia ma non è tutto in quella brevissima frase come scriveva Puccini e Puccini in quegli anni perché vi ho detto lui in qualche modo in quest'opera come in tutte le altre non parla raccontandoci chi era lui ma chi era veramente Puccini in quegli anni in che stato esistenziale era in che momento della vita era quando inizia a occuparsi di Manon a 31 anni aveva già incontrato Elvira aveva già avuto un figlio da lei piccolo Antonio avevano gerovagato un po' come Zingari nel Basso Ticino e nel Bergamasco e erano in cerca di una soluzione abitativa stabile nel frattempo Puccini però non perdeva il buon umore vi leggo una lettera che scriveva da Torre del Lago perché poi finalmente Torre del Lago sarà l'approdo finale a questo grande girovagare del carrozzone tra Puccini e Elvira la giovane figlia di lei Fosca e il piccolo Antonio ecco una lettera che Puccini scrive il 22 dicembre 1892 a un amico a un amico di Torre del Lago ve la leggo perché non perché sia importante il contenuto musicale o il contenuto così tematico ma per dirvi come parlava Puccini agli amici siamo alla vigilia nei pressi di Natale e sentite come parla buone feste a lei a tutti i torrelagesi a Venanzio a Lappore a Diego a Boccia a Stinchi alle Folaghe ai Mestoloni Dio Boffice un mi ci fa pensare al sor un genio e alla signora Ida se sono ancora lì noi stiamo tutti benone spero nel marzo fare una visita a Costi ciccia al tondo con patate alle Marchese dal cimbroccolo tanti saluti da Elvira suo affezionatissimo Puccini vedete questo modo di parlare così assolutamente toscano quasi invernacolo questo modo di parlare veloce rapido pieno di grandi effetti lo ritroviamo anche in Manon perché in fondo il libretto di Manon ha la velocità della giovinezza certo non ci troviamo Dio Boffice che poi andava a trovare queste parole Dio Boffice come dire Dio Dio Soffice Dio Leggero Ummi ci fa pensare ricorrendo anche al dialetto era molto attento alla diciamo alla base testuale del suo teatro Puccini anche se faceva impazzire i suoi librettisti in realtà era figlio proprio della grande tradizione del teatro italiano che era un teatro che partiva sempre dalla parola e dunque torniamo alla nostra Manon i due si sono incontrati lei appunto dovrebbe andare in convento l'accompagna il fratello Lescaux e in realtà il fratello trama cerca di usare la sorella in modo da ottenere da lei del guadagno capisce che gli uomini sono attratti da questa giovane fanciulla e quindi perché mandarla in convento e quindi Lescaux trama Lescaux il fratello trama con il vecchio Geronte perché la ragazza possa andare da lui e formare così una nuova famiglia dice Lescaux con una certa dose di ironia dove anche lui sarebbe un buon figlio per il vecchio Geronte in realtà gli amici di Desgrieux sentono questo colloquio sentono questa trama che si sta giocando alle spalle di Manon informano Desgrieux Desgrieux prepara velocemente una carrozza e i due ragazzi riusciranno a fuggire verso Parigi molto prima ben prima che il vecchio se ne accorga ecco la prima fuga dei due ragazzi ed è la fuga che chiude il primo atto con una abilissima tecnica del contrasto chiuso il sipario del primo atto il secondo atto noi ci aspettiamo di vederlo riaprire con loro due Manon e Desgrieux insieme sono fuggiti sono riusciti a diciamo in maniera roccambolesca a coronare questo improvviso amore che è nato tra i due e invece no intenzionalmente Puccini salta tutta la parte che nel testo di Prevost è molto dettagliata tutta la parte del momento felice dei due innamorati il momento povero ma felice dei due innamorati già un po' bohème e ci fa vedere Manon nel successivo stadio cioè il secondo atto si apre nel salotto elegantissimo del palazzo del vecchio Geronte questa scena è descritta in maniera assolutamente dettagliata nelle indicazioni che Puccini dà per il primo allestimento e deve essere preziosissima piena di grande fasto tutto deve trasudare ricchezza ma anche eccesso di ricchezza tutto deve essere estremamente prezioso abbondante e quasi in contrasto con la luminosa leggerezza dell'amore tra Manon e Degrue quindi siamo capiamo immediatamente che l'amore tra i due la grande fuga appunto Damien è già finita i due si sono già dovuti separare Manon ha preferito ritornare dal vecchio protettore e in qualche modo farsi mantenere e in questa alcova evidentemente non sta neanche male certo il ricordo di Degrue la continua a perseguitare anche perché lei dice al fratello sono fuggita di nuovo il verbo fuggita fuggire sono fuggita da lui senza dargli neanche un bacio e beh certo poteva dargli un bacio e dirgli adesso scappo e l'atto si apre anche musicalmente in maniera sontuosa è un atto estremamente composito questo secondo atto in qualche modo ci racconta quello che poi vedremo con pari fasto nel secondo atto del rosencavalier di strauss cioè il momento della toeletta della grande dama la piccola manonna la piccola manonna che si descriveva con una frase di sette note adesso è diventata una grande signora una bellissima affascinante signora che è lì tutta preoccupata per questa toeletta per questa diciamo preparazione che la deve poi mostrare agli ospiti il testo è meraviglioso ve lo leggo velocemente poi lo ascoltiamo ma non guardandosi allo specchio dispettosetto questo riccio si sta controllando la capigliatura e diretta al parrucchiere il calamistro impaziente presto presto il parrucchiere corre saltellando a prendere il ferro per arricciare e ritorce il riccio ribelle ma non al parrucchiere al parrucchiere o la volandola il parrucchiere col piumino della cipria carezza le guance di manon se vere un po' le ciglia il parrucchiere passa un pennello sulle ciglia la cerussa soddisfatta lo sguardo vibri a guisa di dardo qua la giunchiglia il parrucchiere sparge su manon un'onda di profumo l'avevamo incontrata nel primo atto con un linguaggio così semplice con parole concrete con parole quotidiane di tutti i giorni ecco manon come si è già trasformata parla di calamistro parla di volandola parla di cerussa parla di profumo alla giunchiglia non è solo un preziosismo lessicale quello che Puccini utilizza qui non è solo come facevano i poeti scappigliati un uso come farà tantissimo Boito un uso sapiente della parola per giocare anche con la sonorità della parola no qui la nuova manon che incontriamo è una manon che è già cambiata siamo nel secondo atto manon non è più la ragazzina sedicenne del primo è diventata una donna in un tempo velocissimo la giovinezza le sta passando tra le dita e quindi il suo linguaggio ci testimonia del fatto che lei è diventata una donna raffinata una donna che per ogni oggetto della sua toeletta mattutina ha una parola speciale una parola tecnica che ci spiega che cosa sta andando a fare ascoltiamo sfumiamo anche qui su questo tempo molto evidenziato dal direttore Pappano un tempo che in qualche modo ci riporta alla carma con questi giri ritmici estremamente a cerchio questa voluttuosità che cresce e anche la vocalità di lei è cambiata si fa tutta più spezzettata tutta più più donna e l'esco insinuante si va a trovarla va a trovarla per insinuare ironicamente che il vecchio geronte sia uscito troppo presto dall'alcova ma va a insinuare soprattutto il fatto che lui capisce che lei il fratello capisce che la sorella non è felice non è felice perché pensa ancora a De Grieux il suo pensiero torna da lui e infatti di lì a poco lo vedremo è l'esco che permette a De Grieux di insinuarsi nascosto nel salotto di casa e di farle incontrare nuovamente i due incontrare e naturalmente di nuovo cercare di fuggire in questo secondo atto è nascosta l'aria che forse è l'aria più famosa di tutta l'opera usata moltissimo dai cantanti anche fuori dal contesto appunto della Manon e che è la famosa in quelle trine morbide è la grande aria di Manon in realtà non è una grande aria perché dal punto di vista vocale della scrittura e degli effetti ricercati dal compositore in realtà è un'aria di grande riflessione di grande malinconia dove Manon sembra ritornare nella semplicità del canto sembra ritornare quella bambina che avevamo conosciuto nel primo atto perché la Manon non è felice in queste trine morbide di questa in questi pizzi morbidi di questa alcova dorata lei non trova la felicità semplice povera che invece aveva avuto con con il giovane studente De Gruet e quindi la ascoltiamo insieme è la grande poesia e di nuovo non a caso un aggettivo l'aggettivo che aveva aperto l'opera l'aggettivo gentile perché in fondo la giovinezza è gentile la vera giovinezza non è volgare non è il vecchio geronte che vuole approfittare della piccola Manon usando le sue ricchezze per tenerla legata a sé la giovinezza la giovinezza è povera ma è affettuosa la giovinezza è calda la giovinezza è semplice e il ricordo di quella piccola stanza dove lei stava con lo studente De Gruet fa sbocciare questa melodia così semplice così intima dove veramente in qualche modo Puccini si racconta perché chissà che dietro questa questa descrizione meravigliosa della casetta umile della casa semplice dei due innamorati in qualche modo c'era anche il ricordo della casa semplice del giovane Puccini della giovinezza di quello del tempo che era passato a forte contrasto con questo momento di pura poesia dove noi ci siamo per un attimo sospesi in un tempo che non c'è ecco che Puccini sempre con questa meravigliosa sua tecnica del contrasto ci sposta invece nella realtà che cosa succede nella realtà la mattina nella stanza di Manon nel palazzo sontuoso di Geronti la mattina è estremamente movimentata estremamente anzi è una tarda mattinata poi perché naturalmente non ci si sveglia all'alba è una mattina piena di grandi azioni quindi questo atto che vi ho detto è un atto estremamente complesso è un atto pieno di situazioni musicali diverse che creano una serata di piccola opera all'interno dell'opera perché che cosa abbiamo in successione abbiamo appunto l'esecuzione di questo buffo davvero ironico madrigale scritto i cui versi sono stati scritti da Geronte come omaggio alla bella Manon e che cosa raccontano questi versi questi versi ci sportano in una in un clima pastorale il vecchio Geronte è in realtà il satiro fileno che suona la sua cornamusa e cerca di sedurre con questo suono la riottosa clori che invece naturalmente non lo vuole il madrigale come rigorosamente insegnava la tecnica di scrittura del madrigale ha dunque un testo di tipo arcadico pastorale dove dietro a queste figure idealizzate si nascondono i personaggi del presente certo è molto ironico è molto buffo immaginare che il vecchio Geronte si trasformi nel satiro che suoni la cornamusa e lei invece naturalmente è la pastorella clori un po' vezzosa e retrosa dopo l'intonazione del madrigale che è un puro gioiello di scrittura anticata qui Puccini ci fa ci dà la dimostrazione di tutto il suo sapere di scrittura antica cioè lui sapeva benissimo scrivere e utilizzare tutte le forme della tradizione antica italiana quindi il madrigale meraviglioso pur nel riadattamento segue poi l'altro passo di grande virtuosismo orchestrale che è la riscrittura di un minuetto perché dopo essere stata omaggiata da un madrigale la bella manon deve anche danzare un minuetto naturalmente con il maestro di ballo che le insegna tutti i passi che le insegna come deve stare come deve presentarsi e questa danza viene assolutamente apprezzata con grandi e lunghi occhiati dai signori e dagli abati che sono stati invitati da Geronte per assistere a questo mattinè della bella manonna e anche qui ironia nel testo tantissima perché nel coro degli abati nel momento in cui a qualcuno sta per scappare un apprezzamento un po' troppo esplicito verso manon il coro degli altri esce con il rimprovero ammirate in silenzio in silenzio adorate come gli abati sono soliti fare nelle cerimonie in chiesa e qui un po' del pensiero anticlericale di Puccini esce pungente e satirico ammirate in silenzio in silenzio adorate finita tutta questa grande cerimoniosa mattinè Geronte propone alla bella manon di uscire perché c'è folla sui bastioni ed è bello uscire per le strade di Parigi dopo questa interessante mattinata lei chiede un po' di tempo per prepararsi all'uscita e in questo tempo che lei chiede apparirà appunto De Grieux il bel De Grieux che è stato fatto entrare di nascosto da Lescaux ed è incredibile come il canto di lei nel momento in cui lei che qui finge perché lei qui finge di essere diventata una gran dama dell'alta società parigina nel momento in cui lei si vede De Grieux e si vede riflessa nella giovinezza di lui torna al canto autentico di disperata passione che la caratterizza e naturalmente il numero famosissimo tu tu amore tu riprende quegli accenti drammatici intensi dove lei canta con verità assoluta e in prima persona i due tardano però temporeggiano non per colpa di De Grieux che le dice di scappare al più presto perché in lei vuole salvare solo l'amore ma perché lei si guarda intorno e di tutte queste ricchezze in cui ha vissuto in qualche modo fa fatica a separarsi le dispiace dover abbandonare tutta questa ricchezza e tutto questo fasto tutto questo lusso per cui cerca di arraffare un po' di gioielli un po' di preziosi però nel frattempo perde tempo perde tempo e così Geronte irrompe nella stanza con due guardie qui non si sa in realtà chi abbia informato Geronte la figura di Lescaux la figura del fratello di Manon è effettivamente una figura molto ambigua per cui in vari punti del romanzo e in vari punti anche poi dell'opera esce questo suo doppio giochismo che sia stato lui a informare Geronte a da un lato tenere bordone al giovane De Grieux e nel contempo aver informato Geronte dei piani dei due ragazzi tutto non viene esplicitato però nel momento in cui Geronte rompe in scena entra di nuovo nella musica tutta quell'atmosfera falsa incipriata e da vecchio settecento parruccone che aveva dominato nella prima parte di questo secondo atto i due vengono separati lei viene accusata di essere adultera e ladra molto bello molto ironico ve lo segnalo proprio per la vostra attenzione ed ascolto le poche battute ironiche che Geronte pronuncia quando entra nella sala nella sua meravigliosa salotto e trova i due giovani innamorati che si baciano e di fronte alle parole che indirizza a ma nonno non sono assolutamente parole di gelosia o di rimprove ma sono parole veramente di acido sarcasmo dove il vecchio rimprovera la ragazza di non avere la dote della riconoscenza perché in fondo è stato solo grazie a Geronte che lei ha potuto avere tutto questo fasto tutto questo russo e così in maniera tragica si conclude il secondo atto in qualche modo si conclude anche la prima parte dell'opera perché in fondo la storia dei due giovani potrebbe anche terminare qui lei è stata portata in prigione lui avrebbe la possibilità di ritornare studente di ritornare ai suoi libri di ritornare alla sua vita di prima in maniera geniale la storia va avanti Puccini sa che la storia va avanti ma c'è bisogno di un collegamento che ci porti a far capire proprio musicalmente che stiamo entrando in un'altra dimensione dell'opera per cui chiuso il secondo atto Puccini cuce questo delicato e preziosissimo intermezzo sinfonico l'intermezzo sinfonico era diventato un po' un'abitudine presso tanti compositori che potevano far sfoggio di bravura di scrittura orchestrale pur all'interno delle forme dell'opera pur all'interno del melodrama per cui gli intermezzi sinfonici ormai abbondavano e spesso non avevano una reale funzione teatrale l'intermezzo in questo caso l'intermezzo tra i primi due atti e terzo e quarto di Manon invece ha una forte connotazione drammaturgica una forte tensione teatrale c'è un forte racconto dietro all'intermezzo e non a caso nel libretto Puccini nella parte diciamo strumentale nella parte di orchestra dove ci sono solo note riporta una parte del testo dell'abate prevosto in questa realizzazione di Londra l'avevano addirittura anche proiettato sullo schermo per cui si ascoltavano si ascoltano le note dell'intermezzo e nel contempo si legge questa parte del romanzo si entra prepotente l'abate prevosto a testimoniarci che Puccini con questo intermezzo non vuole fare sfoggio di scrittura sinfonica non vuole dimostrarlo al pubblico torinese di allora quanto lui fosse bravo anche nella scrittura strumentale ma dimostra che anche una scrittura sinfonica può essere teatrale anche con la sola orchestra possiamo fare teatro e Puccini ci riesce meravigliosamente dopo l'intermezzo siamo ovviamente andiamo nella seconda parte dell'opera nella parte tragica da qui in avanti non si ride più è finita la giovinezza sono finite le avventure del cavaliere è finita il mondo facile leggero e gaio di Manon adesso quello che l'aspetta è l'imbarcarsi su una nave al porto di Le Havre alle prime luci dell'alba anzi all'ultima l'ultime ore della notte insieme a tante altre giovani prostitute che sono state rastrellate per la via di Parigi e che vengono imbarcate per l'America a popolare le Americhe è meraviglioso sontuosissimo questo grande quadro teatrale che Puccini domina con perfetta bravura inserendo insieme il coro che commenta il coro dei curiosi che commenta questo appello alle prostitute che salvano salvano su una nave il canto beffardo di Lescaux le parole del sergente che una a una chiama le varie ragazze Claretta Ninina Nerina Elisa Ninon e naturalmente Manon e Manon è la terza come terza era l'opera nel catalogo di Puccini e riservando Puccini una diciamo una parte isolata a questo ultimo meraviglioso duetto del terzo atto dei due innamorati quindi il terzo atto è costruito secondo una forma quasi da grand'opera con un sovrapporsi di elementi diversi il coro il sergente l'esco il duetto dei due innamorati noi non ci perdiamo assolutamente perché l'abilità di Puccini sta nel dosare i vari registri con grande bravura per cui noi riusciamo a partecipare contemporaneamente a questa che è veramente una scena multipla di straordinario virtuosismo vediamo le ragazze che sfilano e che partono che si imbarcano sulla nave vediamo il coro beffardo che commenta vediamo i due innamorati disperati vediamo Manon che cerca di scongiurare De Grieux di lasciarla di lasciarla partire di salvarsi vediamo la disperazione sentiamo la disperazione di De Grieux che all'ultimo momento riesce tanto è il suo strazio a convincere il capitano della nave a farlo imbarcare quindi a partire a fuggire per l'ennesima volta anche lui con la benna Manon partono e vanno e l'ultimo atto questo atto tra l'altro in forma di grande opera è un atto molto serrato per cui anche qui la bravura di Puccini sta nella capacità di tenere tutti questi ingredienti musicali sovrapposti in una misura temporale assolutamente serrata per cui grande spessore ma forma temporale assolutamente breve e l'ultimo atto è naturalmente quello dove dobbiamo tirare fuori tutti i falsoletti perché si piange dalla prima nota l'ultima l'atto dove il libretto è di una straziante bellezza lei che si chiama lei Manon che chiama se stessa la deserta donna deserta donna e naturalmente noi tutti pensiamo alla violetta del popoloso deserto che appellano Parigi però deserta donna devo dire è un abbinamento di aggettivo nome che raramente poi si troverà nei libretti d'opera e siamo appunto nelle Americhe siamo in realtà in un deserto siamo in una terra di nessuno siamo nel vuoto la storia dei due ragazzi è approdata al nulla e Puccini ce lo fa sentire questo nulla ci fa sentire ci immerge in questo vuoto terrificante in questo vuoto che assomiglia così tanto alla paura del vuoto della morte perché appunto come vi ho detto questa partitura Puccini se la porta con sé e Puccini malato in qualche modo probabilmente si rispecchia in questo grande deserto finale che è il finale della storia di Manon e de Dries e loro si parlano loro a questo punto non c'è più nessuna voce di contorno i due soprano e tenore rimangono soli in scena per tutto l'atto è tutto e solo per loro tutti quelli che erano le figure collaterali che ci sono nel romanzo di Provot sono state allontanate la storia è fatta solo da loro due lei chiede a lui di lasciarla lui disperatamente è consapevole di essere alla fine della sua vita lui disperatamente lancia delle parole quasi senza senso però che disperatamente appunto con questa passione disperata lo tengono fino all'ultima nota legata a lui lei cerca da bere lei ha sete e nel deserto non si può che avere sete lui si allontana la guarda con un ultimo disperato sguardo e lei qui canta quella che è la sua meravigliosa aria di congedo sola perduta abbandonata in quel tragico fa minore che è veramente scritto sul confine estremo della morte quest'area su quest'area che ha un testo se volete un po' pesante un po' de modè rispetto alla scrittura di Puccini che ci scriveva così in maniera così pungente e toscana quest'ultima aria invece è un testo che noi troviamo in qualche modo un po' carico forse un po' ridondante e lo stesso Puccini non era contentissimo di questa pagina pensate una pagina di cui oggi non potremmo assolutamente fare a meno ascoltando ma non per cui in alcune delle edizioni delle varie otte edizioni dell'opera la toglie però poi è tale il successo del pubblico è tale la richiesta del pubblico così affezionato a questa struggente confessione finale di Manon che la reinserisce e quindi quest'aria ci sarà però vi dico questo proprio per dimostrarvi come Puccini si è disposto in nome del teatro in nome di una visione superiore del teatro anche a sacrificare una pagina di successo cioè in qualche modo solo a perduta e abbandonata è l'Ama mia Alfredo di Manon Lescaux traviata senza lame ma mi ha freddo non potrebbe stare e Puccini invece scommette che Manon potrebbe stare in piedi anche senza questo grande sfogo finale di canto noi però lo vogliamo ascoltare perché siamo qui contenti che Puccini l'abbia reinserito contenti che nessun direttore abbia più pensato di tornare all'edizione critica e averlo espunto per cui ce ne ascoltiamo un pezzettino è molto lungo non abbiamo il tempo per sentirlo tutto però giusto un attacco di lei nella nostra deserta donna che ci canta sola perduta e abbandonata prima della conclusione finale ci sta quindi proprio solo l'incipit avete sentito questo tempo di morte dei timpani sola perduta abbandonata vi lascio i compiti a casa dopo questa potete compito a casa risentirsi solo perduta abbandonata ma soprattutto risentire l'ultima nota perché naturalmente l'ultima parola gli ultimi versi sono il famoso distico muore ma non ma l'amor mio non muore però l'ultima parola è muore e quindi c'è questo senso di una giovinezza che proprio è finita di una vita che è morta e Puccini genialmente sull'ultima nota di Manon toglie la nota toglie il canto fa una sorta di sprechgesang questo che poi appunto si chiamerà canto parlato cioè lascia la stanghetta con il punto dove deve cadere la nota ma la nota quel pallino nero non c'è più per cui l'ultima nota di Manon che è sulla parola muore il canto è morto il canto non c'è più e direi che forse tra tutte le note che deve cantare il soprano Manon in quest'opera forse questa è la più difficile io vi ringrazio vi saluto e buona Manon grazie Carla Moreni se quella di Puccini è passione disperata la tua è passione forbitissima è chiarissima grazie questa Manon avrà una diffusione incredibile perché la prima sarà trasmessa oltre che in diretta radiofonica anche su Rai 5 e nel circuito internazionale di cinema di Rai Com quindi si vedrà davvero ovunque per chi volesse sentire ancora parlare di Verdi vi ricordo soltanto che lunedì ci sarà l'occasione per farlo in occasione della presentazione dell'ultimo libro di Paolo Galarati al circolo dei lettori alle 18 Paolo Galarati discuterà del suo ultimo libro con il nostro direttore artistico Gaston Furniefassio e il professor Giorgio Pestelli noi ci rivediamo con Vivaldi tra un mesetto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti